Va bene, batti il 5. E dopo questa possiamo iniziare. Allora, La moglie del procuratore è la riduzione teatrale del racconto di Elena Bono, che fa parte della raccorta In morte di Adamo. È uno spettacolo, è la versione teatrale fatta da noi di un romanzo breve di Elena Bono, scrittrice contemporanea di Chiavari, scomparsa l'anno scorso, che noi quest'anno abbiamo proposto al cantero di Chiavari. Parla di Claudia Procla, la moglie di Pilato, e del suo arrivo a Roma per incontrare il suo vecchio amico Seneca e di tutta la storia che ne segue. È sicuramente il romanzo più famoso di Elena Bono, però una cosa che la contraddistingue da tutte le sue opere è che è come una grande ode a Claudia e a ciò che Claudia ha vissuto. È un testo non facile, è un testo che richiede molta attenzione, però è un testo molto profondo, cioè che sa suscitare domande più che dare risposte. Bellissimo! 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 Bellissimo!